il modem router site com vlm 5600 consente di creare e condividere facilmente una rete wireless ad alta velocità il dispositivo è auto installante è sufficiente cioè collegare l'alimentazione ed il cavo di rete ed in pochi istanti il modem sarà pronto per la navigazione è dotato del pulsante ops e di chiave di sicurezza vpa 2 preconfigurata il modem router site com vlm 5600 offre una velocità massima wireless di 300 megabit per secondo su ognuna delle due frequenze da 2,4 e 5 gigahertz e grazie alle quattro antenne integrate a un'ottima copertura del segnale offre inoltre uno switch quattro porte con velocità gigabit per poter creare reti cablate ad alta velocità la privacy della tua rete è garantita in ogni circostanza e grazie all'utilissima funzionalità della rete ospite o guest potrai creare una seconda rete che consente ai tuoi ospiti un accesso sicuro ad internet e dallo stesso tempo impedisce di accedere ai tuoi dati privati site com vlm 5600 è ip v6 ready ed è dotato di porta usb 2.0 per collegare dischi rigidi esterni stampanti o webcam nonché per condividere i dispositivi con tutti gli utenti della rete il server multimediale integrato dlna consente lo streaming dei filmati presenti sul disco rigido collegato e la riproduzione direttamente sui lettori certificati dlna in qualsiasi punto della casa un dispositivo davvero all'avanguardia abbinato al quale troverete una versione di prova gratuita di site com cloud security della durata di sei mesi site com cloud security offre la protezione completa in tempo reale dalle minacce online in cui ti puoi imbattere mentre navighi il supporto in dotazione consente di posizionare il modem router in verticale o di installarlo a parete o sul tavolo rendendolo adatto ad ogni ambiente vlm 5600 è dotato della garanzia estesa site com di 10 anni attivabile gratuitamente registrando il prodotto entro tre settimane dall'acquisto direttamente sul sito internet